Un weekend a Venezia in compagnia delle Maxim Girls con la 67esima mostra cinematografica sullo sfondo, roba da fare in tiria persino a Woody Allen. La sera del 4 settembre Maxim ha avuto l'onore di accompagnare le sue splendide ragazze a bordo di un motoscafo privato che le ha condotte alla pagoda Uno dei locali più cool del Lido. L'evento ha sancito il sodalizio con la campagna Life is Better Without Rucks, promossa dall'assessore alla gioventù della provincia di Venezia, Raffaele Speranzon. Le nostre bellissime ragazze hanno sfilato sul red carpet davanti a importanti personalità del capoluogo veneto di diversi VIP e si sono concesse ai microfoni di alcuni TG nazionali con la vincitrice Jeanne Lockiard sommersa dalle domande dei giornalisti. Ovviamente si è tirato fino all'alba tra musica, palla e balli scatenati per un divertimento sano, spensierato e condito da quel tocco in più di sexiness che non guasta mai, del resto quando hai delle special guest così l'evento non può essere che massimo. Grazie a tutti!